Sì, noi ringraziamo la Giunta per aver modificato insomma questo regolamento nella Non la sentiamo consigliere Sì, mi scusi, ho abilitato il video ma non l'audio Volevo ringraziare la Giunta per questo regolamento che permette finalmente di poter dare esecuzione a un bando, quello del Farmers Market di Garbatella secondo i criteri che sia la Giunta che la Commissione vogliono portare avanti ovvero i criteri di efficacia e efficienza necessari Siamo sicuri che un bando che include il rifacimento dei lavori sia il metodo più veloce per vedere realizzate insomma le opere al più presto Nel contempo abbiamo lavorato insieme alla Giunta delle migliorie che possono appunto garantire qualità anche nei mercati agricoli privati che possono garantire comunicazione a tutti i soggetti interessati che possono garantire che i mercati agricoli siano composti di veri produttori agricoli e non si soroppongano ad altri mercati di Roma Capitale che sono ugualmente importanti per la diversificazione dell'offerta e per il servizio che offrono i cittadini Quindi noi veramente ringraziamo di cuore l'assessore e la Giunta e non vediamo l'ora di poter approvare questa delibera Grazie